Dopo settimane di mal di pancia degli abitanti di Soria nei confronti dell'amministrazione comunale in merito alla variante di Largo Tre Martiri, passata per raccolta firme dei residenti, assemblee di quartiere e una sospensiva del Consiglio Comunale, la Siseri Unitas il 25 marzo ha approvato la delibera che va a riqualificare l'area ex Suzuki riducendone la capacità edificatoria e al contempo non si modificherà la viabilità come invocato più volte a spada tratta dai residenti. Stralciata la bretella di via Agostini così come resta invariato il transito su Lungofoglia-Caboto. Temi ribaditi con forza dall'assessora Mila della Dora che ha rivendicato la bontà dell'operazione antidegrado e le promesse sull'invariato carico di traffico. Si va a riqualificare un'area degradata che è alle porte della città, che tantissimi cittadini negli anni hanno sollecitato all'amministrazione comunale. Quell'area è stata oggetto di occupazioni abusive, di ordinanze antidegrado, solo per citare alcuno di quello che è stato, diciamo, quell'immobile. E questo è il momento per mettere un punto fermo verso la riqualificazione di quell'area. È una delibera che ci permette di ridurre la capacità edificatoria di quell'area. Ricordo che quell'area ha una capacità edificatoria di 4.000 metri quadri e con questa delibera si andrà a metterne 3.400, quindi si andrà a ridurre quello che è il carico urbanistico di quell'area. La delibera è stata approvata con 18 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti. Il sindaco Ricci ha applaudito l'azione amministrativa della sua assessora. Un assessore come la Mila della Dora riesce, in un ambito nel quale nessuno fino ad oggi era mai riuscito, io compreso, cioè mettere d'accordo i privati e proprietari di quell'area e di quel comparto ad accettare una variante condivisa riducendo la capacità edificatoria. La viabilità resta tale, ma diversi residenti che hanno partecipato all'Assemblea hanno mal digerito il fatto che si andrà ad edificare su un'area verde e hanno fatto notare al sindaco quanto questa resti una voce inascoltata. Uno dei temi che ha creato anche un dibattito acceso con i consiglieri di minoranza.